Scusate la settimana perché abbiamo un appuntamento molto importante la settimana a Tireno, perciò è importante questa condizione che abbiamo. Oggi eravate tanti bicker, tanti campioni. Ma è stata una corsa con tanti belli corredori, perciò essere già davanti penso che è un po' importante per me, diciamo che la condizione è buona, è ingresso un po'. Che obiettivi? L'oggettivo è tutto sulla Tireno. Avete provato a ripetere l'abilitazione l'anno scorso? Sì, abbiamo provato ma diciamo che la dicesa era asciutta e perciò noi non abbiamo potuto fare differenze, perché quando è bagnata puoi fare più differenze. La sabita vostra è stata ottima? Sì, no, perché sì, ma era tutto perché abbiamo fatto un bel lavoro.